Lascia un like, iscriviti, e attiva la campanella, per rimanere aggiornato. Sparatoria nel centro di Praga, in Repubblica Ceca. La polizia riferisce che al momento c'è un numero imprecisato di morti e feriti sul luogo della sparatoria alla facoltà di lettere della Charles University. L'attentato si è verificato intorno alle 15 ore locali del 21 dicembre. La polizia di Praga ha fatto sapere di aver eliminato l'uomo armato presumibilmente responsabile della sparatoria all'università. Dopo che quest'ultimo era apparso armato sul tetto della sede della facoltà di lettere. L'intero edificio è attualmente in fase di evacuazione. Gli agenti stanno perlostrando la zona per assicurarsi che non ci siano altri attentatori, ha detto il sindaco Buzlav Zvoboda alla televisione cieca. L'aggressore ha usato un fucile di precisione e dopo si sarebbe sentita anche un'esplosione. Alcune persone presenti nell'Ateneo sono chiuse nelle aule, altre sono state fatte evacuare. La polizia ha chiuso tutta l'area attorno alla piazza Giampalac, ha bloccato il traffico e ha deviato tram e autobus. I soccorsi hanno attivato il cosiddetto piano traumatologico. Testimoni hanno scritto sui social media che ci sono state molte sparatorie. L'agenzia di stampa Reuters è venuta in possesso di una mail inviata dalla Charles University ai suoi dipendenti, nella quale li invitava a rimanere sul posto, non muoversi, chiudere a chiave le porte dei propri uffici e mettere dei mobili davanti alla porta, spegnendo le luci. Anche gli studenti si sono barricati nelle aule. Sono bloccato nella mia aula a Praga. L'attentatore è stato ucciso ma noi stiamo aspettando di essere evacuati. Prego di uscirne vivo. Parole di uno studente, pubblicate sui social network con la foto di tavoli e sedie una sull'altra per impedire l'accesso. A postare frasi e immagini è Jacob Wiseman, che si definisce giornalista in Kosovo che frequenta l'Università Praga. Su X lo studente scrive, chiusa la porta prima che l'attentatore cercasse di aprirla. Le autorità hanno invitato i cittadini a non sostare nelle vicinanze della piazza e a non uscire. L'intervento della polizia è ancora in corso.